abbiamo deciso di aprire a mariano comense dopo uno studio una ricerca di mercato che ha fatto vedere a noi che questo mercato poteva essere un mercato utile buono per noi per cominciare ad offrire quello che il nostro prodotto punto vendita la nostra qualità il giusto assortimento il prezzo giusto qui ci troviamo in un mercato popolato di concorrenti c'è selunga c'è imperal ce ne sono altri ma questi due competitor per noi sono il riferimento con cui ci confronteremo e quindi noi siamo felici di confrontarsi da subito con questo mercato e siamo sicuri che il nostro prodotto punto vendita otterrà dei buoni risultati noi con oggi lavoriamo il primo in tespar in lombardia e a mariano comense a mariano comense stiamo già lavorando da qualche mese con l'amministrazione comunale perché siamo entrati in contatto con sei associazioni del territorio sia sportive che associazioni che si adoperano sul sociale come la caritas come la croce bianca con queste associazioni noi abbiamo già creato dei progetti molto importanti quando noi vi aspettare che si resta apriamo un punto vendita non lo apriamo solo per dare un servizio ai cittadini dando la possibilità di comprare dei prodotti ma soprattutto vogliamo creare ed entrare in contatto con la comunità ma è assolutamente importante perché per noi è un po come far ripartire il territorio dopo tanta difficoltà abbiamo investito tanto sulla ripartenza siamo sempre stati vicini a qualsiasi attività sia produttiva artigianale in questo caso commerciale chiunque abbia voglia di investire sul nostro territorio abbiamo cercato sempre di stare vicino soprattutto questa attività al di là di portare prodotti importanti e di qualità c'è anche un grande interazione con il tessuto del nostro territorio con le nostre associazioni e poi ha portato assunzioni assunzioni per tanti giovani disoccupati della nostra zona e nostro territorio quindi è questo alla fine lo scopo un'apertura non deve essere solo commerciale ma deve integrarsi col tessuto sociale economico della società e questo per noi è l'esempio è così che vogliamo che siano questa apertura e questa attività che inizierò abbiamo esaltato al massimo tutto ciò che è valoriale quindi per esempio nei formaggi abbiamo evidenziato la natura del formaggio la stagionatura il sapore e abbiamo esaltato tantissimo anche della carne tutte le provenienze la filiera la qualità della carne quindi questo punto vendita dove abbiamo espresso tantissimo il nostro prodotto a marchia e spazio che è un prodotto di che consente al cliente in questo periodo di fare una spesa di una buona qualità e un prezzo adeguato a questo momento cioè molto conveniente infine in frutta e verdura abbiamo anche in questo reparto evidenziato un'offerta molto conveniente con tantissimi prodotti a 0,99 per dare proprio la possibilità al consumatore di provare questo nostro reparto a cui teniamo molto e che è molto assortito e fresco arrivi giornalieri della piattaforma nostra logistica campione all'occhietto abbiamo innovato anche sulla comunicazione digital abbiamo inserito due portali all'ingresso dove il cliente può avere tutte le informazioni di servizio quali metodi di pagamento l'ora di apertura ma anche può già vedere tutte le offerte promozionali che sono espresse in modo importante ci sono più di 500 prodotti all'interno del punto vendita marchiati da sparra sono stati evidenziati sia allo stesso scappale sia massificati su delle ceste soprattutto nelle testate e prodotti a marchio e che per i prossimi sei mesi avranno uno sconto del 20 per cento sul prezzo solito ci aspettiamo una clientela molto preparata che conosce bene i prodotti del territorio è abituata bene perché è una regione è una provincia molto attiva e molto attenta noi proponiamo un assortimento che abbiamo studiato in questi mesi abbiamo analizzato tutte le categorie abbiamo analizzato tutti gli assortimenti inerente al territorio lombardo e nostri miei competitor abbiamo inserito moltissime referenze del territorio soprattutto a livello locale perché per noi sono prodotti molto interessanti i clienti li cercano e crediamo e vogliamo aiutare anche l'economia locale questo punto vendita lavoreranno 76 persone di cui 75 tra residenti nel comune di mariano commessa nei comuni limitrofi faccio loro i complimenti perché hanno investito in aspiag hanno fatto mesi di formazione nei nostri punti vendita a padova san martino buonalbergo a parma hanno investito ci hanno creduto che hanno i direttori dei punti vendita in cui hanno effettuato la formazione hanno espresso tutti i feedback positivi per la loro serietà per il loro impegno abbiamo creato delle micro aree all'interno dei singoli mobili barciologici abbiamo potenziato tutto il mondo del non alimentare dal bazar leggero al bazar pesante al tessile tutto il mondo della casa della cucina della cura persona creando delle aree dedicate a tema secondo noi il cliente avrà modo di fare la spesa molto più velocemente e molto più chiaramente senza perdere tempo perché oggi il tempo è molto importante per tutti voglio guardare i prezzi secondo me io guardo sempre ci sono delle belle offerte e bel posto sicuramente il personale è molto disponibile e devo dire molto attento quindi se si richiesta viene formulata ci devo soddisfare al massimo c'è tantissima scelta dei prezzi e sono proprio buoni grazie grazie